Vada retto Satana, vada retto, vada retto! Questo è il risultato di fare una semplice preghiera con il rito di Papa Reone XIII nel 2019. Sono convinto che se passava una bambina di 9 anni sposata con una loro risorsa erano tutti felici e contenti. Io non mi aspettavo che partisse una campagna impostata davvero su un livello estremistico, quasi evocando una polemica di carattere medievale su questa vicenda. Sta arrivando adesso, guardi! Questo è Vergato, Bologna, e lui è Davide Fabri, condannato nel 2018 per apologia del fascismo. Si fa chiamare Padre David ed è venuto qui per fare l'esorcismo alla fontana dello scultore Luigi Ontani. Simboleggia i fiumi, i torrenti e le alture della zona, ma per qualcuno rappresenta Satana con fallo eretto. Il senatore leghista Simone Pillon lo ha definito un satanasso da ricoprire con una colata di cemento. Nella notte, la fontana e l'entrata del museo dedicato Luigi Ontani sono stati imbrattati con le tame. L'arrivo in paese dell'esorcista è stato accolto coi fischi e ci sono stati anche momenti di tensione. Bisogna chiudere questa porta che si è aperta. Hanno invitato dei maledetti demoni e questo è molto pericoloso per tutta la comunità. Guardate, gli zoccoli! Io sono stato condannato semplicemente perché amo la Bibbia, questo, amo questo, amo Gesù e amo i cristiani. Le persone che abitano qui hanno paura. Scusi, chi le ha detto che qualcuno ha paura? L'esorcismo presume la presenza di un diavolo all'interno di un corpo. Questa è una statua inanimata. Quindi lei cosa toglie da questa statua? Gioicate con le forze del demonio, non si gioca con Satana. Con una semplice Bibbia in mano mi state attaccando. Mi volete crocifiggere? Mi dica, questo signor sindaco, questo è un posto pubblico? Questo è un posto pubblico. Posso dirigermi verso la statua? Non deve chiedere l'autorizzazione a me. Quanti sono i grani del rosario? Cero, vai a casa tua! Vergogna! Non è perché sei un fascista. Strumetalizzatore di qualsiasi cosa. San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia. E Dio esegiti il suo dominio su di lui. Cero, 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 cero. Siamo, cero, cero. E Dio esegiti da solo! Vada retro, Satana! Vada retro! Vada retro, Satana! Vada retro! Vada retro, Satana! Vada retro, amici! Questo è il risultato di fare una semplice preghiera con il rito di Papa Leone XIII nel 2019. Sono convinto che se passava una bambina di 9 anni sposata con una loro risorsa erano tutti felici e contenti. Sono molto contento di vedere come un cristiano si è accolto per dire una preghiera. Io vi voglio bene a tutti! Io vi voglio bene e vi perdono! Perdona loro che non sanno quello che fanno! Sono stato nominato diacono a Roma. Facci vedere quella! Facci vedere la condanna per apologia di fascismo! Chiesa cristiana anglo-cattolica, cosa significa? C'è fu delle chiese, insomma. C'è fu delle chiese, insomma. Cielo! Cosa ho fatto? Cosa da odio! Lei alimenta? La campagna di odio! Vai! Vai! No, sì, è sfida! No! No! No, 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 no! Non ce ne va mai! E di là, giurla! Non te te ne vanno in base basta!